Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di Beyond Blue, che non ha niente a che vedere con Man Eater. Non siete uno squalo questa volta, ma siete una donna che ha la passione per l'oceano e quindi lo esplora da cima a fondo in cerca delle varie specie marine. Non è un gioco di ruolo questa volta, non è un horror. Possiamo collocarlo tra i giochi d'avventura, diciamo, anche se di avventura c'è poco e niente e non è nemmeno un simulatore. È difficile dargli un genere particolare. Che cos'è Beyond Blue? Allora, prima di tutto parto dalla premessa che è stato disponibile come esclusiva Apple Arcade fino a poco tempo fa. In realtà lo è ancora. Però questa versione, che è quella console, arriverà prossimamente. Quindi diciamo l'esclusiva Apple Arcade è decaduta. Quindi il titolo è disponibile, o meglio sarà disponibile a breve anche su altre piattaforme. Fatta questa premessa, vediamo di che cosa si tratta. Beyond Blue, spero di averlo detto bene perché con l'inglese non sono un maestro, è un gioco nel quale bisogna esplorare l'oceano. La mappa è questa. Una mappa apparentemente grande, ma in realtà non è poi così grande. Perché anche se è composta a strati, che vi mostrerò ovviamente a breve, non potete esplorarla completamente tutta. Ci sono ovviamente dei limiti. Quindi possiamo parlare di semi-open world. Lo scopo del gioco è praticamente questo. Quello di recuperare delle reliquie nell'oceano, di scansionare le varie specie marine. Non so se avete mai giocato un titolo acquatico dove bisogna fotografare gli animali acquatici. Bene, in questo titolo bisogna scansionarli. Ovviamente vi mostrerò a breve che cosa intendo dire. Per ogni specie vi sono diverse unità da scansionare. E quindi il vostro compito sarà quello di completare questa vasta collezione di animali acquatici. Quindi ad esempio se trovate il grande barracuda, il gioco vi dice Ok, del grande barracuda ce ne sono dieci di esemplari. Quindi voi dovete girovagare per la mappa e cercarli e scansionarli tutti. E questo ovviamente vale per tutte le specie marine. E una volta fatto questo le aggiungerete alla collezione. Man mano che progredirete nel corso del gioco, sbloccherete approfondimenti, come fosse un documentario, in realtà, videoludico. E vari, diciamo, extra, vari contenuti. Il gioco è in inglese, ma supportato dai sottotitoli in italiano. Come potete vedere, l'hood, l'unico hood, cioè l'unico, diciamo, elemento presente nell'interfaccia è la mappa in alto, classica, alla Fallout, alla Main Eater, e così via dicendo. Che vi indica, ovviamente, la rotta, quindi la posizione dei vari punti di interesse. Potete correre, o meglio, nuotare velocemente senza stancarvi, non vi è alcuna barra della stamina, come potete vedere. Quindi potete nuotare velocemente all'infinito, oppure, ecco, nuotare normalmente, magari se volete dare un'occhiata più approfondita al fondale, anche se non potete esplorarlo completamente. Infatti, se scendete giù, è stata la mia prima cosa che mi sono chiesto, ma vediamo fino a quando posso esplorare. E arrivati ad un certo punto, ecco, il personaggio si ferma, più di questo non potete andare. Che è comunque abbastanza, se vedete in alto, comunque siete molto in basso. Però qui non c'è praticamente nulla, quindi alla fine è un di più. Ma ha comunque i suoi limiti, come vi ho detto, è un semi-open world, non potete andare proprio dove vi pare. Ma comunque lo scenario è abbastanza generoso. Premendo lo stick analogico, scusate, il dorsale sinistro, quindi LB nel mio caso, si attiva questa modalità radar, che praticamente permette di intercettare le varie specie marine. E, come potete vedere, vi indica il nome della specie, quante ne avete scansionate e la distanza. Quindi in basso, poi, vi è la barra del progresso che vi mostra, appunto, a che punto siete, scusate il gioco di parole, con la vostra collezione. Naturalmente, inquadrando una specie diversa, vi dirà, in questo caso, ecco, ne hai due di quattro. Se inquadriamo, ad esempio, questi pesci, ne ho cinque di sette, e così via dicendo. Come fare, la domanda ovviamente è lecita, come fare per capire se una specie è stata scansionata oppure no? Vedete questo pallino bianco? Praticamente questo pallino bianco indica che la specie è stata già scansionata. Quindi, per vostra fortuna, non dovete rimettervi a riscansionare tutte le specie per poter sbloccare gli obiettivi, completare il gioco, eccetera. Adesso, se la trovo, vi mostro una specie che non ho scansionato. Così avete la possibilità di notare la differenza. Diciamo, il gioco, anche se ha degli obiettivi da portare a termine, che, diciamo, sono all'incirca gli stessi. Cioè, scansiona questo animale, scopri il suo comportamento. Cioè, praticamente voi vestite i panni di questa ragazza che è esperta e la sua passione è quella di esplorare i fondali marini alla ricerca delle varie specie. Ecco, vedete questo pallino vuoto? Anche qui, praticamente, qui mi indica che non ho scansionato questo oggetto. Quindi, lo inquadro, lo scansiono e adesso mi dice, ok, ne hai tre di quattro. Come vedete, diciamo, ce ne sono tantissime di specie in giro per la mappa. Quindi, diciamo, potete sbizzarrirvi ad esplorare ogni angolo dell'oceano alla ricerca delle varie specie. Diciamo che, anche se il gioco è suddiviso in livelli, la mappa, bene o male, è la stessa. Quindi, se magari avete scansionato delle specie nel primo livello e nel secondo livello volete proseguire, potete farlo perché noterete, ecco, le specie già scansionate e quindi proseguirete tranquillamente con le restanti. In altre parole, ad ogni inizio missione si interagisce con questo elemento e, grazie a questo elemento, vengono messi in risalto i punti che vi permettono di proseguire con la storia. Quindi, raggiungete questo punto, scansionate ciò che c'è da scansionare e così via dicendo. Quindi, alcune specie sono obbligatorie da scansionare per proseguire nella trama, altre invece sono da contorno per arricchire la vostra collezione. Alla fine di ogni capitolo potete tornare alla vostra imbarcazione dove ascoltare la musica, rilassarvi, spulciare la vostra collezione di, diciamo, animali marini e così via dicendo. Ad occhio e croce, questo è ciò che Beyond Blue ha da offrirvi. Quindi, non ci sono enigmi o puzzle ambientali, non ci sono nemici da sconfiggere, non è un horror, non è un action, non è un simulatore, anche se io lo collocherei, sinceramente, tra simulazione e avventura come genere di gioco. È disponibile su Apple Arcade, se siete abbonati alla piattaforma potete giocarlo, tra virgolette, gratis, altrimenti non vi resta che attendere, diciamo, il lancio su PC e console che dovrebbe avvenire a breve.